Sandro, mi spieghi perché uno nato 40-50 anni dopo questa storia dovrebbe commemorare il 25 aprile? Perché questo è il simbolo che ci hanno lasciato queste persone che sono morte per la pace, per la libertà, che hanno combattuto il nazifascismo, deve essere ricordato per sempre, perché questi germi negativi potrebbero sempre tornare e potrebbero togliere quelli che sono gli elementi basilari dell'individuo, che è la libertà. Oggi corriamo dei rischi? Oggi non corriamo dei rischi, però i ricurgi di fascismo sono sempre presenti. Abbiamo assistito in questi giorni a vari atti di violenza che potrebbero generare in ulteriori atti di violenza e quindi si potrebbero diffondere e per questo noi dobbiamo bloccarli sul nascere. Osvaldo, ma tu lo ricordi quel periodo o no? Sei troppo piccolo. Esattamente 67 anni fa a quest'ora ho salutato una pattuglia di tedeschi che lasciarono Roma. Insieme a mio padre stavo. Ma in questa zona già abitavi? A Fortebraschi, esattamente. A mattina del 25 sono andato via da Fortebraschi verso la Cassia e un ufficiale tedesco, parentesi, io lavoravo insieme a mio padre a tagliare la regna per le cucine di questo ristaccamento tedesco. Ma eri bambino proprio. Avevo 13 anni, 45 e avevo 15 anni, 14 anni, 130 e lui mi ha regalato una bottiglia di olio. Ah però, bel bottino di quei tempi. No, no, mi ha regalato, dice questo per la famiglia, io domani muoio. Infatti questa pattuglia di tedeschi, che poi era un reggimento della fanteria tedesca, sono stati fermati alla stolta. Ci ha salutato, noi tagliavamo la legna, io e mio padre tagliavamo la legna per le cucine tedesche. Non c'hanno niente a che vedere con il nazista in senso politico. Sì, sì, sì. Era l'esercito tedesco che aveva occupato, dopo la nostra ritirata, aveva occupato Fortebraschi. Tutto qua. E quindi viva la liberazione, vi guardiamo più bene quel periodo. Eh sì, oggi senti che ci sono pericoli ancora? No, no, perché siamo in salute, siamo pronti a scendere in piazza per contrastare chi vuol farci tornare a quel periodo. Come senti la cultura e la riflessione su certi eventi e sulla storia dovrebbe essere basilare? Io tra l'altro ci sono insegnati, come molti di voi sanno, e vi racconto un aneddoto, tanto così per chiarire un attimo e per dare un minimo di contesto alla situazione. Alla domanda, ragazzi ma domani cosa festeggiamo? La risposta è vagata sostanzialmente dall'appreccia di Portavia allo sbarco in Normandia fino a una ragazza di origine cinese, poverina, ha tutte le sue forze emotive per non saperlo, però insomma forse è colpa nostra anche di noi insegnanti, anche delle famiglie, non dirglielo fino ad arrivare appunto allo sbarco di ansio addirittura. Quindi è evidente come insomma ci voglia un impegno da parte di tutti all'interno degli ambienti di lavoro e all'interno della propria famiglia. Per noi insegnanti nella scuola soprattutto quello di diffondere, di ricordare, di far capire che queste vite così spezzate in modo tragico, questo è un quartiere come molti altri in cui la resistenza ha tutti i livelli, ci sono giovani che sono morti ma ci sono anche persone che in qualche modo hanno dato un apporto diverso, non importa se più grande o più piccolo, proprio per farci trovare in una democrazia che noi dobbiamo difendere e di cui bisogna in qualche modo portare con noi di generazione in generazione i valori. 67 anni sembra però effettivamente che siamo passati veramente secoli, stiamo forse rischiando di perdere certi valori che sono baserati. Io vorrei, fra gli altri e non solo loro, però cito questi nomi proprio perché sono i cinque morti ammazzati, evidentemente deportati non solo qui ma anche deportati a Dachau e quant'altro proprio in questo quartiere. Come dicevo prima, ogni quartiere di Roma, come Roma città aperta, evidentemente ha avuto troppe morti, ha avuto le proprie sofferenze, ha avuto i propri sacrifici. Qui siamo appunto per Mario Carucci, di cui naturalmente ronoriamo la memoria e la vita. Quindi ecco, direi un applauso per uno di questi nomi. Gagliano Tabarini. Sofrasco Turchetti. L'altro è deportato a Dachau, è morto in data non conosciuta, e quindi questo rende ancora più triste perché almeno qui c'è una data. Ci sono persone di cui effettivamente sono state perse le tracce, sono state quali ritrovate ai capi, però non si sa nemmeno in che data siano decedute. Vittorio Buttaroni. Allora la nostra gratitudine per quello che ci ritroviamo e che dobbiamo proteggere ognuno per quanto proprio e con le azioni appunto da fare nei propri contesti lavorativi e familiari. Ora direi Sandro, io lascerei la parola a chi ti parla dopo? Francesca. A Francesca. Ti lascio. Lo reggo io? Sì, sì. Buongiorno a tutti. Io dirò due parole per ricordare Teofrasto Turchetti, che era il fratello di mio nonno. E ovviamente quello che so di lui è molto poco, è racchiuso nei documenti inviati dagli archivi della Croce Rossa e dai campi di concentramento in cui è stato prigioniero. Si riducono prevalentemente a numeri di matricole. Teofrasto nasce a Roma il 5 giugno del 1921, quando viene catturato dopo l'8 settembre del 43 è perciò molto giovane, 22 anni appena. Ma è già sposato e padre di una bambina. Viene internato in diversi campi di concentramento. Da prima a Dachau, dove arriva il 22 settembre del 43, viene classificato come lavoratore forzato e gli viene dato il numero di matricola 55273. Successivamente viene trasferito nel campo di Sassenhausen, tra il 15 e il 18 gennaio del 45, classificato come il prigioniero numero 128830. Il 6 marzo arriva poi dopo un altro trasferimento nel campo di Buchenwald, classificato con il numero di matricola 133539. Da qui, secondo il Ministero della Difesa, la sua vita si ferma, non hanno altre notizie e viene quindi considerato disperso. Citando testualmente il Ministero della Difesa, il caduto civile Teofrasto Turchetti va considerato disperso in prigionia dalla predetta data, così come altri caduti che rimangono accomunati per l'eternità da un unico tragico destino. Innanzitutto non era un caduto civile, Teofrasto, ma era un militare italiano, deportato, a cui è stato negato anche lo status di prigioniero di guerra. In realtà, secondo le mie ricerche, è probabile invece che il 30 marzo del 45 fosse ancora vivo, trasferito nuovamente nel campo di Sachsenhausen, che sarebbe stato liberato tra l'altro dai russi pochi giorni dopo. Per cui non sappiamo quale sia stato il suo destino, non sappiamo se morì da uomo libero, dopo provato da tanti mesi di prigionia, o se non riuscì a vedere il giorno della liberazione. Nessuno potrà mai dirci cosa avrà pensato o provato, quanta paura e quanto coraggio lo avranno sostenuto. Nessuno potrà mai dirci il giorno della sua morte, ma nessuno potrà soprattutto mai spiegarci perché ad un giovane uomo è stata negata tutta una vita. Certo è che il suo pensiero sarà andato alla giovane moglie, alla sua bambina, ai suoi genitori e ai suoi due fratelli, così come oggi il nostro pensiero va a lui e ai milioni di persone rese schiave e assassinate dalla barbarie nazifascista. ringraziamo veramente per questo intervento assolutamente commovente. Io vorrei ringraziare perché ha avuto l'adesione da parte del Partito Democratico, sia a livello municipale che a livello di circolo, di Selle, quindi Sinistra e Libertà e del Partito Socialista italiano. ringraziamo di nuovo anche le forze dell'Ordine per la loro presenza. Passiamo ora a parlare di Mario Carucci, sotto la guilabile noi siamo. Allora, Mario Carucci nasce a Roma il 3 maggio del 23 in via del Gelsomino 67, è un militare paracadutista. All'8 settembre del 43 rientra a Roma da Viterbo, dove era a distanza del suo reparto, successivamente si unisce alla banda partigiana di Colle San Marco, che è un colle che sovrasta a Scolipiceno. Era una banda inserita nel fronte militare clandestino di Luca Cordero Lanza di Montezemolo, che come tutti sappiamo è stato arrestato, internato a Via Tasso e poi ucciso alle forze ardelline il 24 marzo del 44. Con questa banda combatte dal 3 al 6 di ottobre del 43 insieme con altri 200 partigiani contro 400-600 tedeschi. Chiaramente i partigiani vengono battuti per l'inferiorità numerica e ci sono 13 morti e 14 partigiani catturati. Tra i 14 partigiani catturati c'era Mario Carucci, che viene di nuovo portato a Roma e viene fucilato a forte bravetta il 22 dicembre del 44. Il padre, Nestore Carucci, il 25 luglio del 44, scrive al Ministro della Guerra una lunga lettera che noi abbiamo trovato insieme con altri documenti presso l'archivio centrale dello Stato, nella quale racconta la storia del figlio e chiede una sorta di riabilitazione per il modo barbaro in cui il figlio è stato ucciso. Dopo essere stato colpito dal problema di esecuzione gli sono stati sparati altri 4 colpi quando già era praticamente morente o morto. La lettera non ha avuto nessuna risposta. Vittorio Buttaroni nasce a Zenzano ai Castelli Romani nel 1905, nel 1919 entra nel movimento giovanile repubblicano, negli anni 30 si trasferisce a Roma in via Alessandro III numero 6, che è qui vicino, dove esercitando la professione di autista diffonde materiale di propaganda antifascista. Nel 1932 viene arrestato per attività antifascista e appena scarcerato, sebbene fosse stato più volte ammonito, riprende la sua attività di militante antifascista. L'8 settembre del 1943 combatte contro i tedeschi a Porta San Paolo, successivamente entra nella resistenza aderendo al partito d'azione, costituitosi clandestinamente in Italia nel 1942, derivando dal movimento di giustizia e libertà fondato a Parigi nel 1932, tra gli altri da Carlo Russelli. Nel partito di azione ha l'incarico di operare per la resistenza nel quartiere Aurelio e nei Borghi, creando una rete importante fra gli antifascisti della zona. Successivamente continua la sua attività nei castelli romani. Arrestato per una delazione il 4 marzo del 1944, il suo nome viene incluso nella lista dei 335 che saranno fucilati alle fosse ardeatine il 24 marzo del 1944. Una targa apposta il 25 aprile del 1950 nel luogo di residenza a Cavalleggeri ricorda. Qui dimorò il partigiano Vittorio Buttaroni, estreno difensore della libertà, trucidato alle fosse ardeatine dalla ferocia nazifascista il 24 marzo del 1944, i compagni di lotta e il popolo del rione Cavalleggeri. A Vittorio Buttaroni viene intitolata una piazza di Genzano. Il suo nome compare anche nella targa apposta sul bastione di Porta Cavalleggeri e ancora al passetto su una targa che ricorda i caduti di giustizia e libertà alle fosse ardeatine. Grazie. Annalisa allora che ci parla, ci ricorda. Gagliano Tabarini e Romualdo Chiesa, se mi sentite parlo anche così. Se il braccio mi dà forza. Allora io approfitto soltanto per ricordare una cosa, tutte queste schede e questi documenti di cui stiamo leggendo vengono quasi tutti dall'archivio centrale dello Stato che è un posto che conserva la memoria e questi documenti che sembrerebbero morti poi sono quelli che invece possono dare la vita per ricordare queste persone. Gagliano Tabarini. Gagliano Tabarini nasce a Urbino nel febbraio del 1896, si trasferisce a Roma abbastanza presto e viene immediatamente segnalato dalla sottoprefettura di Urbino come accanito comunista. Questo significa che entra immediatamente sotto l'occhio della polizia fascista, ancora prima. Viene arrestato varie volte anche nel 1915, ma viene assolto. Nel 1942 viene arrestato perché ha creato un gruppo politico che si chiama Scintilla e fa di organizzazione e di collegamento con altri gruppi. Il 19 dicembre 1943 viene denunciato e deferito al Tribunale speciale per la difesa dello Stato per propaganda e organizzazione comunista. Viene portato nel carcere di Regina Celi dove nel gennaio del 1944 viene prelevato insieme ad altri 291 detenuti e trasportato alla stazione Tiburtina che era il punto di partenza per i campi in Germania. I 299 detenuti vengono portati su un treno, un carro bestiame e iniziano il famoso viaggio, il viaggio iniziato poi da tantissime persone verso la Germania. Si fermano una sola volta a Dachau ma la destinazione finale è Mauthausen, che è un campo di sterminio dove Tabarrini arriva il 13 gennaio del 1944. Sempre parlando di questi documenti, un fonogramma della Questura proprio sottolinea che il 5 gennaio del 1944 sono partiti dalla stazione Triburtina un treno con sopra 292 prigionieri. Gagliano viene portato a Mauthausen dove muore il 29 novembre del 1944. Nel 1948 i compagni del Partito Comunista di Porta Cavalleggeri li dedicarono una targa. Tabarrini Gagliano, militante nel partito dal 1921, perseguitato nel ventennio fascista, arrestato dai nazi fascisti il 19 dicembre del 1943 ed è portato a Mauthausen dove moriva il 29 novembre del 1944. Il suo sacrificio sia sempre di esempio e di monito, 5 dicembre del 1948. Questo è proprio un esempio di una persona che ha passato la vita a combattere con l'ultimo. L'altro scheda, questo è più conosciuto probabilmente, è Romualdo Chiesa. Romualdo Chiesa che nasce a Roma nel 1922, uno studente di ingegneria, uno dei capi della resistenza romana, arrestato, portato a Via Tasso e fucilato alle fosse Ardiatine il 24 marzo 1944 e medaglia d'oro alla memoria. Romualdo Chiesa a 17 anni fa parte del movimento dei cattolici comunisti insieme a Adriano Sicini e tanti altri. Viene deferito al Tribunale speciale, subito, però viene assolto per insufficienza di prove, forse per la giovane età. Dopo non si spaventa, ricomincia a continuare la sua attività politica nei quartieri qua intorno, Triunfale, Aurelio, Porta Cavalleggeri, accanto ai compagni del gruppo Bandiera Russa. Quando viene proclamato l'armistizio dopo l'8 settembre, Chiesa insieme a tanti altri giovani partigiani, civili, soldati, è tra i combattenti di Porta San Paolo che cercano di opporsi all'esercito tedesco. Muoiono molte persone a Porta San Paolo, lo sappiamo, Chiesa continua la sua attività clandestina, però viene arrestato per una delle azioni, finisce nelle mani delle SS, mentre stava recandosi ad un appuntamento a Ponte Emilio, viene arrestato e viene portato a Via Tasso, a Via Tasso dove lui è un capo importante della Resistenza ed ha anche una serie di documenti compromettenti, quindi viene torturato atrocemente ma non parla, non parla infatti quando poi verrà portato alle fosse ardiatine, era quasi cieco, il viso era irriconoscibile dalle percosse e viene ucciso a 20 anni. Ha una medaglia d'oro al valore militare e leggo la citazione. Il giovane antifascista conobbe il carcere poco più che 18enne e dalle sofferenze patite fu temprato alla dura lotta clandestina di cui divenne assertore convinto e incitatore travolgente. A Porta San Paolo condusse operai e studenti a ostacolare il passo alle truppe tedesche che con orgogliosa abbaldanza marciavano contro la città eterna. Il popolo romano di Ponte Mario, Borgo, Prati, Trionfale, Porta, Cavalleggeri e Madonna del Riposo sentì la sua voce tonante di tribuno, organizzatore di gruppi armati e di GAP che furono sotto la sua guida audaci esecutori di ardite azioni di sabotaggio. Già sfuggito tre volte alla cattura, in seguito a vile di reazione, cadde nelle mani del nemico, riuscendo in un tentativo di fuga, distruggono importanti documenti che se fossero caduti in mano all'avversario avrebbero compromesso il movimento partigiano locale. Sopportò i martiri di Via Tasso pur di non tradire i compagni. ridotto quasi cieco per le servizie subite e col volto trasformato in piaga sanguinante fu condotto alle fosse ardiatine, ovvero il sublime martirio conchiuse la giovane esistenza che non aveva conosciuto che le amarezze della schiavitù. A Roma nel quartiere Spinaceto sono in titolare una strada al suo nome. Grazie. Questa era l'ultimo posto per i cinque martiri che avrete a resistenza. Ora noi apponiamo la corona. domani perché bisognava il 25 aprile? Perché ci siamo liberati. Ci siamo liberati? Siamo sicuri che siamo liberi? No, non penso che siamo sicuri. Non siamo sicuri. Vabbè. All'epoca ci siamo liberati. Ragazzi di vent'anni che hanno immolato tutto perché a vent'anni si ha tutta la vita davanti. Hanno immolato la loro vita per la libertà, per la lotta contro la dittatura fascista, contro l'occupazione nazista. Io penso che questa testimonianza deve essere sempre presente nelle nostre menti e nei nostri cuori e ci debba essere risprone perché anche in questa situazione che stiamo vivendo, così difficile, ci porti sempre a combattere per la giustizia sociale, per la pace sociale, per la libertà e per i nostri ideali. Quindi grazie all'ampi, aurelio Cavalleggeri che ha organizzato questa cosa, grazie a tutte le persone che sono venute e sono numerosissime rispetto anche alle commemorazioni degli anni scorsi. Anche la provincia di Roma è vicina a questa manifestazione e con la sua azione politica e amministrativa lavora in questo solco. Grazie veramente a tutti e oggi deve essere una giornata di festa, di commemorazione, di ricordo, ma anche una giornata di impegno sociale e civile. Grazie veramente. Insomma Michele, ma siamo veramente libere? No, io ho paura che stiamo perdendo le nostre libertà in questo momento. Non solo economiche, ma anche costituzionali, perché si sta facendo scempio della Costituzione. Bisogna che la gente lo sappia e che si creino i movimenti per impedire questa banca. Questa è una battaglia importantissima. Noi dobbiamo difendere la Costituzione fino in punto. Come i resistenti hanno fatto, hanno dato la vita per la resistenza, noi dobbiamo essere disposti a tutto per difendere la nostra Costituzione. Oggi abbiamo altri problemi. Possono essere messi in dubbio i principi fondamentali della nostra Repubblica in altri contesti e quindi forse verrebbe la pena un po' recuperare i principi fondanti della resistenza, per un po' confrontarsi con ciò che succede oggi. Partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, partigiano, portami via, e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppelli, seppellirai lassù in montagna. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, bellina lì, lassù in montagna. Sotto l'ombra di un bel fiore, che passeranno, o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passeranno, mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano, o bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.